Paraparapaparapam Eh si, eh si E Bowser Fury sia Madonna quanto lenta, eccoci Giga Campana Della Riba Con 18 sole gatti Abbiamo un po' di cosette da fare, eh Io andrei abbastanza spedito Vado avanti e tipo qua cos'è che c'è Fatemi un po' scendere, va Siamo a rapida rampa rapida Ripida rampa rapida Ok, va bene Guarda un po', guarda un po' Ce li hanno già qui sopra Porco due, lo sapevo Che non lo sapevo io Oddio ma è No, è il delirio No, è il delirio ragazzi Il fatto è che odio, odio profondamente Con tutto me stesso questi boost Li odio No Ok, recuperato No dai, no dai Ok, recuperato Sì, vabbè È easy per Per quei quattro Alla fine No, ma io mi sto cacciando Veramente in un guaio No, va bene, no Ma guarda dov'è Oh, vabbè Sì, è stato È stato veramente easy Ecco qua il sole gatto Pensavo fosse più Complicato Però questo è soltanto Ah, no No, ma come Ma, cioè Ho recuperato anche il secondo Quindi tipo Abbiamo finito qui Wow Il livello più veloce Della storia Wow Abbiamo raccolto 20 sole gatti Un messaggio risuona Dalla giga campana E si sta per risvegliare anche Sì, direi che si sta Anche per risvegliare Io adesso però Devo ritornare Alla giga campana Ah, aspetta Aspetta, aspetta Scusami, eh Ma questa è un'altra Giga campana Quanti ne vuole questa? Non ne vuole Perché sta per ritornare È ritornato Bowser Aspetta che mi serve Fare questo Aspetta, aspetta Ah, no Eccola Scusate ragazzuoli Io vorrei Innanzitutto Fare Fare questa cosa Voglio fargli spaccare qua Dov'è che mi porta? Oh E qua mi serve Mi serve il Il mitico Tanuki Ehi Ah, ma ci sono le piattaformine Che si Che si Che appaiono Vabbè Mega easy Abbiamo un altro Selegato Sono soddisfatto Sono soddisfatto Eccoci qua Ma che serve Sto coso qua? Ah, ma io posso Prendere una Mega rincorsa Per Slanciarmi Cosa c'è lì sotto? Ah, ma è una campana Mi viene anche a prendere Vieni qua Vieni qua piccolo Vieni qua Ma se mi fai scendere un attimo Ecco qua Vediamo se riesco a raggiungerlo da qua Dove è Dove è Caspite No Eccolo Iceberg alla deriva Questa è un'altra prova a tempo? Fa vedere? Oh no Aspetta che se riesco a fare Se riesco a fare la prova al volo No, dai Ok Ok Ce l'ho fatta No Ti prego No Non farlo Mi baggo nella piattaforma Aspetta No, ma ce n'è un altro qua Ecco perché C'era un pesce nascosto Odio le piattaforme dove si scivola Immensamente Vai Via Bowser Via Mo ritorna tra cinque minuti Che palle Quindi Devo forse ritornare alla giga campana Per fare Per fare questa cosa Ma sto solegatto qua così? Solo soletto? Perché non ci posso andare? Ma? Torre invisibile Che vuol dire? Che vuol dire torre invisibile? Dai State scherzando? No, ma come? No, ma dai Ma è No, ragazzi Vi prego Non ci capisco una mazza Non ci capisco una mazza Questo sapete cosa che mi ricorda? Mi ricorda un livello Fatto su Sempre su Mario 3D World Ecco Questo lo recuperiamo Che complicato Sto posto qua Eh, mo sta ritornando Bowser Un'altra volta Non mi dà tregua Ok Mi manca Mi manca non troppo Magari Eccolo dov'è No Ti prego Vabbè se n'è andato Cioè Eh, d'accordo Eh, mi devo mettere Mi devo mettere un Tanuki Perché se no ci casco Se no ci casco di sotto Ecco qua Uh Recuperato Recuperato Eh, infatti È qua il punto Olè Eh, mi sa che tocca sconfiggerlo per bene Manca il figlioletto al gatto Come cosa Aspetta Vai Diventiamo mega giganti E battiamo Bowser Na 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 No, che questa mi può servire Ok Vai, manca poco Aspetta, aspetta Ma Ehi Aspetta, aspetta Fammi vedere Ma Wow Bellissimo Ok, adesso li sfrutto per bene Aspetta Vai, 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 vai No Ok Dai Ce l'ho fatta Vai a posto Adesso non dovrebbe respawnare Per un pochino Non so poi adesso Quanti solegatti ci vogliono Per una giga campana Perché Più Volte lo batti Più Ne servono Se non erro Cosa sta uscendo fuori? Cos'è? Aha Sono due nuove aree Queste qua Sembra che Bowser Jr. Voglia dire qualcosa Oh mannaggia Speravo tanto che questa volta sarebbe tornato normale Ma sì Certo che no Nessuno resiste agli attacchi di Mario Meglio di mio papà Dopotutto Andiamo Troviamo il modo di scalare quella cascata Per cercare altri solegatti Va bene Va bene Va bene Quindi sblocchiamo Effettivamente altri punti Ok Noi siamo qua Dobbiamo andare qua sotto Questi punti qua Quindi con le Con le V Sono già state fatte No? A quanto pare sì Allora vediamo di fare cose Anzi Prima di Prima di andare via Prima di andare via Cosa importante Dove si trova qua il gattino? Lo dobbiamo ritornare alla mamma Adesso ne vuole 40 Per risvegliare la giga campana Hai capito? Sono tante 40 Non so dove sia il gatto Ah qui addirittura ne vuole 3 Ahà E' un livello bonus Non ce ne sarà un Vabbè Dopo sto percorso Per forza Dai Invece no Non è possibile 50 E il boss finale 100 per il 100% Devo ucciderli tutti Infatti Ok quindi Ne servono 100 Di solegatti Fatto? Eccolo qua Yes Perché la gatta è scesa qui sotto? Ah ma è uno È uno dei gatti Ma guardate E perché non l'ho visto prima? Esattamente Uno gliel'abbiamo trovato Ma aspetta Ehi Cosa c'è qui sotto? A parte questo Ci saranno altri gatti sicuro qua O magari no No Si esce proprio dall'altro lato 100 solegatti E' bella tosta Allora Le nuove zone Sono queste qua Oh cavolo Ma in che senso? Guarda dov'è quel solegatto Si trova in altissimo Ecco qua il ponte Sì Eccoci qua Questo è l'ingresso no? Siamo alla giga campana Della piana E come al solito È pieno di gatti Via Ritornerò a dare un'occhiata Provo intanto Ad esplorare le zone Un po' più Fattibili Dove effettivamente ci sono I solegatti in evidenza Poi magari quelli là Li andiamo a recuperare Se poi non riesco a raggiungere Quel numero lì Vabbè le 40 Secondo me ci arrivo dai Allora uno è lì sopra Quella è bella tosta Come ci arrivo lì sopra? Qui appena respawno a Bowser Devo avere Subito la prontezza Di ritornare indietro Mi devo ricordare di questa cosa Siamo a Ciambellisola E c'è un Luigi Come quello della scorsa volta Che inizia a correre Non si ferma più Prevedo Prevedo tante bestemmie qui Qui c'è anche un altro punto Sempre per Bowser Madonna ragazzi Cioè io non mi devo mettere adesso E perché qua comunque un solegatto Me lo becco eh Quindi devo fare Adagio Ok ed è uno No Dai però che palle Che palle Che palle il Joygon Che drifta Che palle Ah vabbè alla fine non perdo nulla Dai ritorno qui Ritorno qui Devo evitare di cadere Ok una volta l'abbiamo beccato Ma guarda Ci sono anche i punti nascosti E trasparenti Piano 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 Dio mio E te pareva no? Uno lì sopra dovevano piazzarmelo Ok E siamo a Tre Frammenti recuperati Quello adesso è un Quello è un problema Eh sì che è un problema Dio mio Volendo potevo anche recuperarlo Con il boomerang Però Boh Ritorniamo Mi rimetto questo Io direi Prendo prima tutti quanti Frammenti Ma dai Dicevo Prenderei prima tutti quanti Frammenti Per poi Togliere di torno lui Ehm Ok E c'ho il sole gatto Adesso Ok recuperato Quindi Aspetta No Non è vero Niente Devo Devo comunque togliere di torno lui Eh sì Boomerang Sì Preferisco fare così Iniziamo a colpire lui No come Sta ritornando anche bowser Aspetta allora Ehm Niente Ritorna bowser Stupido bowser Girati Ah ecco dov'è Perfetto Un altro sole gatto sta qua Buonasera Luca Come stai? Bentornato Vediamo se riesco Effettivamente a Fare fuori Madonna ma guarda Ce n'è anche uno lì Eh Ehi Una stella? No Non è vero No No Non so perché Non so perché l'ho fatto Mi son sentito Mi son Non lo so Non lo so Una botta Una botta di Di coraggio Ho detto Puoi vedere che prendendo la stella Rimango immune qui sotto? Certo Dark Proprio così Va bene Ci rimettiamo questo Devo togliere di torno Quel maledetto Luigi Inchiostro Dai Mori torna indietro Perfetto Fatto fuori Dammi quest'altro sole gatto Questa zona l'abbiamo già completata Easy È una prova a tempo Questa qua È per forza Hai capito Va bene Tanto qua Mi aiutano Ad ogni modo Ma se utilizzassi il paw Dai Che palle Non è a tempo Questa cosa qua Pensavo Pensavo di sì invece Niente Vabbè Scherzavo Ma che fa? Ma che fa? Ma è impazzito? Ma è impazzito? Che fa? Che fai? Ma è matto Andiamo va Vediamo un po' Qua che ci fai? Ci fai un salto Che roba è? Aha E infatti Non l'avevo visto Però è a tempo Dai Così ci arrivo Yes E siamo a 31 31 sulle gatti Eccolo Eccolo Arriva 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 Eccolo qua Sì volevo prendere quest'ultimo Così Magari Potevo passare Da quella parte là Vai Rieccoci Dai Spacca qua Dove mi Dove mi spedisce? Oh my god Cavolo Corri piccolo Mario È un'altra piattaforma volante Come quella di prima Eccolo Vado lì sotto Non ci arrivo mai Non ci arrivo mai Non ci arrivo mai Non ci arrivo Non ci arrivo Ma non ci voglio credo Oh Che culo Qui sotto in teoria Però dov'è? Il problema è Dov'è la Ma scusami Ma qua io non avevo completato Ma ne manca uno Aha Ok Un attimino perché si può Si può fare altra roba Con molta calma Va bene Da questo lato abbiamo fatto Andiamo Al prossimo Aspetta che ce ne sta un altro Eccolo qua Yes Che figo Mi piacciono queste cose Sì E l'ultimo l'abbiamo fatto pure Qui non abbiamo più niente da fare Mi prendo Questa meravigliosa campana in più E me ne riandrò Cioè me ne vado via Me ne vado via Ciao 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 Grazie a tutti